Bene, possiamo cominciare, credo. È un piacere dare il benvenuto a Daniele Trivaldi, per molte ragioni. La prima, naturalmente, che è per lui, e questo è un po' un ritorno a casa, perché ha studiato qui all'Università di Pisa. Per noi, anche perché è un ormai vecchio collaboratore di Mnamon, l'abbiamo contattato per l'ebraico. Daniele, in effetti, si è laureato, ha studiato l'ebraico e anche però ha poi spostato i suoi studi anche sul Copto. Io, attualmente, lavora come assegnista di ricerca all'Università di Bologna. So che sta traducendo testi copti per pubblicare, ma io ricordo un unico lavoro, che mi sembra forse il più poderoso, che è il commento all'Apocalisse di Giovanni, che è uscito da Carocci nel 2012. Non è nuovo Daniele neanche ai nostri seminari di Mnamon, ha già presentato altri testi, quindi sarà assolutamente, spero, a suo agio e condividerà con noi il piacere di essere qui. Grazie. Ringrazio Anna della presentazione. In effetti ormai è diventato un ambiente molto familiare per me questo. Ringrazio anche Lila, la persona di Antonella e tutti quelli che lavorano a Mnamon e soprattutto anche al professor Giardina. Il testo che volevo presentarvi oggi è un testo che personalmente mi ha sempre molto affascinato, perché è un testo, credo anche letterariamente, molto bello, ma è un testo difficile, molto difficile da leggere e da studiare. Spero magari di riuscire al termine di questo seminario a instillare un po' di curiosità nei confronti di quello che ritengo essere sicuramente uno dei testi più interessanti della letteratura cristiana antica. Strutturerò il seminario, diciamo così, in tre parti. Nella prima parte introdurrò rapidamente il Vangelo di Verità, nella seconda parte parleremo, diciamo così, della lingua umana e nell'ultima sezione affronteremo un paio di apax legomena del testo che ci porteranno a affrontare appunto la scrittura divina. Prima del 1945, quindi della scoperta dei codici inagammati, noi già conoscevamo un testo intitolato Vangelo di Verità. Ireneo di Lione, intorno al 180 d.C., nel terzo libro del Contro le Eresie, 11.9, paragonando i Vangeli posseduti dagli eretici, dai Valentiniani, fondamentalmente dai seguici di Valentino, con i Vangeli della tradizione che ormai si stava affermando come tradizione ortodossa, cita come testo valentiniano prodotto dai Valentiniani, Ireneo dice non olim, quindi prodotto di recente dai Valentiniani, un testo che i Valentiniani stessi chiamano il Vangelo, il Vangelo di Verità. Probabilmente Ireneo non ha mai letto, non ha mai avuto fra le mani questo testo. L'unica cosa che forse anche per motivi polemici lui sottolinea è che questo testo è diverso dai Vangeli canonici. Immaginate dunque, diciamo così, lo stupore quando nel 1945 il primo codice inagammati riporta come terzo testo un testo che inizia appunto con queste parole, il Vangelo di Verità. I frammenti del codice XII saranno scoperti dopo, non erano stati individuati subito. Nella ricerca ormai domina il consenso che fondamentalmente l'opera menzionata da Ireneo sia la stessa di cui abbiamo trovato un esemplare, o meglio due traduzioni, adesso vedremo in che senso traduzioni, due traduzioni copte nel fondo di inagammati. Abbiamo detto che se Ireneo non conosce questo testo, Ireneo fondamentalmente non ci può dire altro su questo testo, a parte il titolo. Perché possiamo fidarci di lui in questo senso? Paradossalmente la prova è rivenuta anche con il Vangelo di Giuda. Nel caso del Vangelo di Giuda, prima del ritrovamento, ma prima che venisse pubblicato dalla National Geographic, noi avevamo unicamente questo titolo trasmesso da Ireneo e associato ad una setta che probabilmente, secondo la maggior parte degli studiosi, è stata creata da Ireneo stesso, cioè i Cainiti. E qui vediamo appunto l'ambiguità di queste fonti eresiologiche, perché da un lato abbiamo la trasmissione di alcuni titoli che poi con la scoperta dei testi si sono rivelati corretti, però inseriti in una cornice polemica, nel caso dei Valentiniani, non di invenzione totale, ma di ignoranza possiamo dire parziale. Nel caso del Vangelo di Giuda, probabilmente lì Ireneo si è inventato quasi tutta la notizia. La cosa che però ci permette di identificare il Vangelo di Giuda citato da Ireneo con quello riapparso, diciamo così, nel 2006, se non ricordo male, è che Ireneo sostiene che questi Cainiti rivalutano tutte le figure negative della tradizione biblica, tra cui Giuda. Forse nel Vangelo di Giuda non è propriamente così, si sono susseguiti studi su studi in questi dieci anni per cercare di capire se il ruolo di Giuda sia positivo o non positivo, però anche lì, anche in questo caso, domina l'unanimità che i due testi siano fondamentalmente da identificare. Quindi avremmo per il Vangelo di Verità un termine dato da Ireneo che è intorno al 180, negli anni 80, insomma, del secondo secolo. Questo che ci dice anche, normalmente si presuppone che il Vangelo di Verità sia una traduzione dal greco in copto. Ci sono state però delle voci discordanti, una è di quello studioso di cui ha fatto girare il Codex Gnosticus Apocryphus e Novi Testamenti. Secondo Peter Nagel, infatti, l'originale del Vangelo di Verità sarebbe in siriaco. Un'altra voce ancora più isolata, che voci ancora più isolate, lo vorrebbero addirittura un originale copto. Un terzo coro che si è alzato ultimamente è di coloro che sostengono che fondamentalmente per gli iscritti di Nag Hammadi c'è indifferente sapere come sono stati prodotti singolarmente, se fossero traduzioni o meno. tutto quello che noi possiamo dire del loro passato e della loro storia è ipotesi. Quindi parliamo solo di ciò che è certo, ovvero del fondo della biblioteca di Nag Hammadi stesso, che è l'unica fase della lunga storia di questi scritti che noi possiamo afferrare con concretezza. Gli esponenti di questo indirizzo di ricerca hanno pubblicato proprio quest'anno questo libro The Monastic Origins of the Nag Hammadi Codices in cui cercano di proporre una determinata origine, nello specifico i monasteri facomiani, per la costituzione di questa raccolta di 13 codici. L'ipotesi è molto interessante, ben argomentata, io li ho sentiti più volte anche a Oxford, all'associazione patristica internazionale. Il problema che vedo in questo approccio è che fondamentalmente appiattiscono la sincronia. È vero, possiamo fare delle ipotesi, ma le ipotesi possono essere più o meno fondate sulla storia di questi codici. Per alcuni testi abbiamo i papiri che ci trasmettono il testo greco, ad esempio, penso al Vangelo di Tommaso, penso alla Sapienza di Gesù Cristo, penso al Vangelo di Maria. Per gli altri non sempre siamo in questa fortunata condizione, però, ai miei occhi, sarebbe come prendere la traduzione, ad esempio, di Rufino, del De Principis di origine, e dire che, visto che non sappiamo esattamente come Rufino si è intervenuto in qualsiasi punto, allora questo è un testo che possiamo semplicemente utilizzare per studiare il modo in cui Rufino adatta i testi di origine alla teologia del IV secolo, di IV-V secolo. e quindi sarebbe come se rinunciassimo, nonostante gli studi che sono stati fatti, penso in particolare a quelli di Maglio Simonetti, rinunciassimo a provare a ricostruire l'origine che c'è sotto. La prospettiva sarebbe la stessa, è interessante, va studiato, vanno studiati entrambi, sia la traduzione del De Principis che i codici di Nag Hammadi, come prodotti letterari di IV-V secolo, però non possiamo rinunciare a cercare di ricostruire una storia. E questa storia chiaramente si deve confrontare anche con la possibilità che l'originale, come in altri casi, che l'originale non sia cotto. Io sono convinto, e poi cercherò di dimostrarvelo, che l'originale del Vangelo di Verità sia greco. Peter Nagel, dal 66, se non ricordo male, fino all'ultimo volume, continua a sostenere, nonostante le critiche ricevute, continua a sostenere che l'originale sia siriaco. È stato confutato su punti singoli. Per alcune, per parte di questa confutazione posso rimandare all'edizione del Vangelo di Verità, alle note di quell'edizione, di McRae e Wilson nel The Nagamadi Library in English. Loro lì cercano di intervenire specificatamente punto per punto dove Nagel ravviserebbe fenomeni linguistici che farebbero presupporre un'origine, una matrice siriaca, una matrice linguistica siriaca. Quello che è difficile, in generale, di accettare sono soprattutto due punti. Probabilmente il Vangelo di Verità conosce l'Apocalisse di Giovanni, e l'Apocalisse di Giovanni è un testo che nella tradizione siriaca è rimasto sempre molto problematico. Secondo punto è che le grandi letterature cristiane non in lingua greca iniziano, verrebbe da dire, quasi contemporaneamente o verso la fine del secondo, penso alla letteratura latina, o nel terzo, nella prima metà del terzo, penso all'invenzione del copto, e poi al primo grande autore attestato in lingua siriaca che è Bardesane di Edessa. Un autore siriaco come Taziano, di origine siriaca come Taziano, sappiamo che scriveva in greco. E quindi pensare ad un'opera scritta in siriaco prima degli anni Ottanta del secondo secolo è abbastanza è abbastanza difficile, ripeto, non possiamo escludere nessuna possibilità, però è difficile inserita in questa grande cornice. Venendo al testo, e adesso cercherò di dimostrarvi come, secondo me, delle cose molto particolari che possiamo documentare nel codice 1 si spieghino bene postulando un originale greco. Un'ultima parola rapidissima sulle due versioni. La versione del codice 1 è una traduzione in copto, ricordo rapidamente il copto è l'egiziano letterario scritto in greco, in alfabeto greco, con l'aggiunta di 6-7 caratteri tratti dal demotico. Questa invenzione avviene probabilmente nei primi 20-30 anni del terzo secolo e il copto inizia la sua storia come lingua di traduzione dal greco. La cosa interessante e avrebbe da dire anche un po' ironica è che il copto finirà la sua storia in traduzioni in arabo. Diciamo che la storia del copto come lingua letteraria si chiuderà diciamo così, si apre con traduzioni dal greco e terminerà con traduzioni in arabo. Il codice 1 è appunto in copto, in quella variante del copto molti le chiamano dialetti ma la dicitura è discussa che va sotto il nome di subacmimico ovvero un dialetto una variante del copto parlata intorno a licopoli sembra questa sarebbe la determinazione geografica che viene proposta. Il codice 12 invece presenta un testo del Vangelo di Verità in copto saidico a parte ad esempio gli articoli che non sono propriamente del saidico in ogni caso il saidico è abbastanza regolare. Il saidico tradizionalmente è il dialetto della tebaide. Non solo il testo copto del codice 1 per quello che possiamo vedere dai frammenti probabilmente rappresentava un testo più breve del testo del codice 1 scusate il testo del codice 12 rappresenta un testo più breve del testo del codice 1 e a livello di copto a livello di grammatica a livello di sintassi scorre molto meglio ripeto per quello che si può vedere per le parti che ho scelto io purtroppo non abbiamo paralleli quindi dovremo lavorare solo sul codice 1 questo secondo gli editori indicherebbe fondamentalmente che sono traduzioni di due testi diversi della stessa opera e che ripeto riporto l'opinione degli editori che il il traduttore copto alla base della copia copta del codice 1 avrebbe lavorato con un testo molto più confuso e molto più corrotto con un testo greco molto più molto più corrotto di quello su cui lavorò il traduttore a cui poi dobbiamo diciamo così l'originale che è poi stato copiato chissà attraverso quante fasi nel 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 codice 12 bene veniamo veniamo ai testi che vi ho che vi ho presentato se vi mettete a leggerli noterete subito che l'italiano non è un granché questo è voluto per cercare di dare anche a chi non conosce il copto una minima idea di come suona il copto in particolare le idiosincrasie del copto di questo testo alle orecchie di chi il copto lo conosce le idiosincrasie ve le ho segnate in grassetto le ritrovate tutte in grassetto la numerazione che vi presento è quella del testo di Titorlandi che vi pregherei di farmi riavere perché volevo leggervi delle annotazioni delle annotazioni che fa il Titorlandi questo testo è un testo secondo me assolutamente fondamentale per la comprensione del Vangelo di Verità perché Titorlandi ha cercato di di individuare anche una strutturazione sintattica del testo e quindi è utilissimo perché alla fine voi avete tutto un elenco degli inizi quindi vi aiuta anche a scomporre diciamo così l'ordinamento del testo che grazie al cielo in copto è aiutato dal fatto che il copto riassorbe il greco quindi troviamo i gar troviamo i de e questo aiuta anche a troviamo epeide e quindi troviamo degli indicatori abbastanza solidi per per poter strutturare un testo di questo tipo e vedete che lui li ha catalogati quindi si può studiare anche una certa formularità per come ha impostato il problema credo che questo sia un volume ancora fondamentale non condivido tutte le sue conclusioni però ripeto senza senza questo libro la comprensione di questo testo risulterebbe ancora più difficile di quello che di quello che che oggettivamente è vorrei leggere con voi appunto questi paragrafi che vi ho messo 61 63 poiché non potevano comprendere né conoscere colui nel quale erano fosse stato infatti così se il suo volere non fosse uscito da lui egli lo manifestò a sapere perdonatemi questo però in copto conoscenza è maschile con la quale i pronomi che recuperano conoscenza sono in femminile in copto e questo è molto strano con la quale erano concordi tutti tutti di lei ti è ti è la parola copta il primo è un segno derivato dal demotico che è una fondamentalmente una dentale sorda palatale che chiaramente il greco non aveva e quindi l'egiziano aveva e il secondo lo vedete chiaramente è una età cioè il sapere del libro vivente che gli manifestò ai mondi alla fine le sue lettere e le lettere di lui manifesto due cose sono interessanti in questo passo il primo è il non fosse uscito perché ho tradotto non fosse uscito perché qui il copto è abbastanza è abbastanza chiaro non può essere non può essere la protasi scusatemi la podosi di un periodo ipotetico dell'irrealtà grammaticalmente per come sta scritto in copto per come sta scritto in copto non può essere la podosi non lo possiamo tradurre con un condizionale il secondo punto ve l'ho già detto egli lo manifestò a sapere anche questa è una una costruzione strana in copto ci ritorneremo però quello che mi interessa adesso è che tutti i pronomi che recuperano i riferimenti a sapere in copto sono femminili mentre il sostantivo sapere saune in copto è maschile scrive orlandi questi con la quale sue non possono concordare con alcun sostantivo femminile presente nella frase per questo si deve correggere con il pronome suffisso maschile cioè correggere il sigma del pronome suffisso femminile in phai il pronome suffisso maschile oppure pensare che la concordanza sia fatta per trascuratezza del traduttore sul femminile greco del testo originale gnosis se accettiamo questa seconda ipotesi si spiega anche il non fosse uscito ovvero il traduttore si sarebbe trovato di fronte in greco una podosi con imperfetto barra auristo senza an tipica ad esempio del greco del nuovo testamento ma che è attestato in seconda e terzo maccabèi è attestato in epiteto è attestato anche nei papiri quindi trovandosi di fronte a un auristo senza an ha tradotto in copto come se fosse una protasi questi due elementi combinati mi permettono anche di escludere il fatto che qui il testo abbia una lacuna cioè che e il che comunque manchi la nostra podosi dopo alla fine quando arriveremo alla seconda parte vi proporrò la mia traduzione anche abbastanza simile a quella di Orlandi 171 questa è la parola del Vangelo della venuta della pienezza per quanti attendono la salvezza in copto è maschile per questo ho dovuto invertire i generi in italiano adesso questo salvezza che viene che viene dall'alto di nuovo in copto abbiamo un femminile che recupera un maschile stesso fenomeno che abbiamo visto sopra e stessa spiegazione soteria ovvero nel momento in cui il traduttore copto si è trovato a tradurre soteria l'ha tradotto con il termine copto per salvezza ujai p ujai la salvezza poi dopo probabilmente ha trovato il relativo femminile e l'ha tradotto in copto il relativo è invariabile quindi ha messo per per recuperare questo tipo di nessi dal greco si utilizza normalmente il pronome dimostrativo che quindi può diventare maschile o femminile è relativo per questo ho messo questo per farvi vedere anche questa particolarità e lui ha messo il dimostrativo al femminile trovandosi probabilmente un relativo greco femminile concordato con soteria quindi stessa sbadatezza verrebbe da dire del caso precedente un po' diverso è il terzo esempio 129 questo è il modo che ciascuno ha fatto mentre dormiva ripeto molte di queste cose si capiscono nel contesto io qui devo andare proprio semplicemente sulla tessitura sintattica e grammaticale di ogni singola frase questo ha fatto mentre ciascuno ha fatto mentre dormiva quando era ignorante e questo è il modo del suo alzarsi secondo che si è svegliato questo secondo che che è l'unica traduzione possibile per il copto perché il copto ha guardate kata quindi non si non si può non si può sbagliare sul secondo non solo a kata ma dopo a t che è il termine che in copto indica il modo o la maniera quindi letteralmente sarebbe secondo la maniera qui giustamente orlandi fa notare probabilmente una falsa traduzione del greco hos da rendere con quando infatti prima abbiamo un quando era ignorante quindi avremo anche un parallelismo quando era ignorante quando si è svegliato 201 ripeto io credo che alla fine l'argomentazione che l'originale sia greco acquisti forza anche dal sommare tutti questi casi dal non prenderli singolarmente perché alla fine è impossibile che ci siano state così tante lacune così tanti errori che puntano verso un'unica un'unica soluzione 201 il suo volere è la sua traccia il copto ha qui il greco ichnos e nessuno la comprenderà letteralissimamente segue né egli esiste che se ne diano conto per afferrarla di nuovo orlandi lo intendo e egli esiste come calco del greco uk existin perché il verbo che viene utilizzato in copto sciope lo stativo qualitativo sciop viene utilizzato come traduzione del greco emi normalmente però in questo in questo specifico testo questo specifico caso non avrebbe senso tradurre con egli esiste o egli è che se ne diano conto eccetera eccetera quindi giustamente orlandi presuppone che anche qui ci sia un calco diretto del greco 44 anche qui una concordanza saltata si parla di gesù si svestì degli stracci consunti e indossò l'incorruttibilità questo che nessuno può strapparglielo incorruttibilità in copto come in greco aftarsia è femminile tment attecco l'incorruttibilità però viene recuperata da un pronome da un pronome maschile scrive orlandi la sintassi di 43 e 44 così come il suo pensiero sono molto difficili da definire chiaramente molto dipende appunto da questa alternanza maschile e femminile di cui parlavamo da un maschile che dovrebbe riferirsi a un sostantivo che invece è femminile se non si vuole ricorrere ad una doppia correzione del testo occorre interpretare il maschile il pronome dimostrativo maschile come Gesù stesso ecco qui non sono d'accordo con orlandi perché secondo me la soluzione è un'altra ovvero che il il nostro traduttore avesse un testo greco con non con aftarsia ma con to aftarton che ha tradotto correttamente prima con aftarsia poi quando si è trovato di fronte il neutro o ha tradotto di nuovo letteralmente con un maschile la cosa potrebbe essere rafforzata dal fatto che al 173 abbiamo un pi a te co t ment a te co è l'incorruttibilità pi a te co è un aggettivo non corruttibile a te co sostantivato che potrebbe essere benissimo il calco di to aftarton 811 nulla erano infatti la paura e l'oblio e la creazione plasmata dalla menzogna mentre la verità che permane stabile è immutabile e imperturbabile e non è dato a bellirla disprezzate l'inganno dunque così esso non ha radice di nuovo questi così strani scrive orlandi così è una pura formula di passaggio ma come tale è usata in modo scorretto infatti il senso richiede qui piuttosto una formula del tipo perché se riferita alla frase precedente o dunque se riferita alla frase seguente io ho un'altra soluzione e si basa sempre sul greco vi ho riportato un passo di plotino perché plotino perché sto cercando di leggerlo tutto ed è un'impresa assai assai disperata però notate come in plotino uto o utos venga utilizzato non voglio dire nello stesso senso però nello stesso senso del tipo di arrivare a una conclusione a tal punto dunque è prima il nostro autore aveva parlato del nulla dell'oblio segue l'esortazione non ho detto che probabilmente per il vangelo di verità si tratta di una cosiddetta omelia viene chiamata un'omelia io mi sto convincendo che potrebbe essere un'omelia o comunque un'esegesi con esortazioni di della parabola delle 99 pecore che non ho qui il tempo per addentrarmi in questa cosa perché anche io sto in pieno laboratorio su questo testo e quindi alcune di queste cose stanno nascendo adesso nella mia testa e ci sto lavorando in ogni caso vedete come anche nel testo di plotino uto utos venga utilizzato appunto come formula di passaggio in uno dei due sensi che Tito Orlandi aveva proposto quindi in questo a tal punto esso non ha radice ripeto è un senso questo a tal punto di questa sfumatura che come faceva notare Orlandi il copto non ha perché l'espressione copta significa semplicemente così in questo modo mentre invece il greco utos può avere questa funzione di di snodo argomentativo esattamente come intuiva come intuiva come intuiva Orlandi e qui diciamo il prossimo è un po' il capolavoro del nostro autore del nostro traduttore e egli creò il tutto ed il tutto è in lui e il tutto mancava di lui letteralissimamente come da per mezzo da o per mezzo di il copto si può tradurre in uno di questi due modi come per mezzo di uno che alcuni non conoscono e gli vuole che lo conoscano ed amino così e poi qui sì che c'è una lacuna manca manca il seguito di cosa infatti mancava il tutto se non della conoscenza del padre lo capiamo perché poi viene introdotta questa domanda con gar quindi il gar in greco ci permette di separare bene il testo copto scrive orlandi l'espressione quella che io ho tradotto come da per mezzo di uno ricorre anche al paragrafo 86 ma è tutt'altro che corretta sembra che non indichi un complemento di agente o di derivazione ma un modo di esprimere come colui ora ebol hi che il copto da per mezzo di viene spesso utilizzato l'espressione utilizzata in questa frase viene spesso utilizzato per tradurre spesso ad esempio anche nei testi biblici il genitivo partitivo inteso come oggetto diretto di un verbo la mia ipotesi è che il nostro autore si sia trovato davanti un genitivo assoluto in greco che magari iniziava con questa parola uno tinos magari e quindi abbia preso il tinos letteralmente e lo abbia tradotto con la cosa più simile che ha trovato per lui in copto cioè questa forma di ebol hi che rimane un pochino per aria ultimo esempio che vi ho portato qui al 6 perciò l'inganno prese forza e mise mano alla propria materia in vacuità perché non aveva conosciuto la verità si fece materia plasmata approntando nella potenza con bellezza la replica della verità qui il problema è approntando nella potenza con bellezza la replica della verità innanzitutto l'ordine delle parole che nel copto è stranissimo in frasi di questo tipo il copto prevede verbo complemento oggetto e eventualmente altri complementi in più come come sottolinea orlandi nella bellezza e con la potenza è strano la differenza tra la potenza e una bellezza con articolo indeterminativo che in copto potrebbe tradurre anche un avverbio forse esclude il parallelismo fra i due concetti e lui alla fine propone la traduzione preparando nella potenza della bellezza l'equivalente e la verità cioè lui dato che in rispetto a d in copto si segnala semplicemente per una aspirazione iniziale diversa lui corregge il testo corregge il secondo in in d ora però la cosa è possibile in greco se noi pensiamo a un originale greco la cosa si spiega immediatamente vi ho riportato un passo di plotino guarda caso parla anche questo del momento in cui l'anima del mondo si mette diciamo così si mette a creare la realtà che la realtà successiva gli ordini di esistenza successiva e guardate come abbiamo anche qui un participio con due dativi uno con e uno senza articolo ripeto questo è stato un caso fortunato veramente leggendo leggendo plotino sto cercando sto cercando altri casi però mi sembra interessante perché un testo greco di questo tipo spiegherebbe la stranezza la stranezza del copto appunto sia spiegando meglio l'ordine delle parole cioè il nostro traduttore si è attenuto fondamentalmente a un ordine delle parole non copto sia il doppio la presenza di questo doppio in co o con con e senza articolo questo in con di norma traduce il dativo greco soprattutto quando quando si tratta di un dativo strumentale o modale ripeto non so se vi ho convinto forse alcuni di questi esempi sono più convincenti di altri però credo che assommati secondo me tutte queste particolarità si spieghino con il fatto che il traduttore in copto nel vangelo di verità è un traduttore non voglio dire sbadato però quantomeno abbastanza fedele e tra virgolette sperimentale nel senso che quando si trova a tradurre il greco traduce in maniera estremamente letterale quasi disarmante quasi disarmante e soprattutto per quei casi in cui abbiamo visto le concordanze che saltano se girate l'end out scopriamo un altro aspetto di questo traduttore che fino a questo punto abbiamo visto secondo me essersi basato non tanto su un testo corrotto quanto avendo tradotto lui stesso in una maniera molto molto letterale il testo inizia così il vangelo di verità è gioia per chi ha ricevuto dal padre la verità la grazia di conoscerlo nella potenza della parola uscita dalla pienezza che è nel pensiero e nella mente del padre colui che è chiamato salvatore copto soter questo nome ad indicare quel che avrebbe compiuto la salvezza il copto lo potete leggere tranquillamente è sote di quanti erano stati nell'ignoranza del padre il nome vangelo invece ha significato la manifestazione della speranza e il ritrovamento per chi lo cerca questa è un po' una chicca del nostro traduttore perché è riuscito a riprodurre in copto il gioco di parole che probabilmente era in greco tra soteria sozzo e soter il nostro autore inizia con una riflessione sui nomi di Gesù probabilmente sta riflettendo anche su Jesus non bisognava essere tanto addentro nell'ebraico allora per sapere che appunto Jesus aveva questa deriva dalla radice di vincere salvare eccetera eccetera il giochetto lo fa anche origine qualche all'inizio negli anni 20 del terzo secolo all'inizio del secondo libro del commento a Giovanni interpretando il nome Osea e interpretando poi anche il nome di Geremia più o meno più o meno individua la radice di sollevare essere alto esaltare eccetera eccetera quindi queste cose si potevano fare ripeto senza essere senza per forza dover conoscere o parlare in una lingua semitica adesso capirete perché sto facendo questa puntualizzazione quindi il nostro autore ci regala una chicca perché in copto salvare si può tradurre anche Nuhem entrambi i verbi fondamentalmente significano strappare da prendere e però usa sote usa sote evidentemente per fare un gioco di parole per trasporre l'etimologia dal greco anche in copto quindi inizia con questa chicca per poi diciamo così tornare a livelli di traduzione estremamente letterale veniamo al nome vangelo ecco questo passo è uno dei principali argomenti di Nagel a favore di un'origine siriaca del nostro testo perché perché in siriaco svar può al pael può significare sia sperare che annunciare in ebraico abbiamo la radice savar savar e abbiamo la radice basar savar al pael all'intensivo significa sperare può significare sperare basar significa annunciare in aramaico abbiamo sia savar sia abbiamo attestato però nell'aramaico post biblico nel talmud abbiamo anche svar nel significato di annunciare già questa molteplicità di 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 radici secondo me inficia un pochino il ragionamento di nagel sull'unicità l'obbligatoria derivazione dal siriaco di di questo passo chiaramente dovremmo postulare comunque un autore che sa giocare o che ha qualche fonte o qualche tradizione che gli permetta di giocare su questi livelli ma ripeto se lo poteva fare origine probabilmente una quarantina cinquantina di anni dopo contemporaneamente lo può fare il reneo proprio sul proprio sul nome di gesù nella dimostrazione apostolica indovinerà l'etimologia del nome di gesù per cui gesù è salvatore e cristosa è l'unto non vedo perché un autore che comunque scrivesse e parlasse greco non potesse avventurarsi in una simile etimologia tanto più che in filone ne troviamo abbondanti e filone probabilmente non era molto addentro nell'ebraico nel testo ebraico troviamo l'etimologia di israele ad esempio in un testo citato da origine che probabilmente è ebraico la preghiera di giacobbe c'è un gioco sul nome di israele che viene trasformato nell'archistrategos di dio probabilmente giocando anche sulla radice sar sarar che in ebraico sar appunto è il principe il capo anche e quindi ripeto questo è il testo citato da origine è un testo greco quindi sinceramente io non mi stupisco più di tanto se ripeto anche nel vangelo di filippo che viene collocato in siria ma che sicuramente è stato scritto in greco e non in siriaco si trovano dei giochi di parole dei termini riferiti all'eucaristia provenienti dall'aramaico corretti le etimologie sono sostanzialmente corrette si gioca sui nomi anche lì i nomi di Gesù adesso come adesso non saprei dirvi quale fosse esattamente la fonte però penso che non implichi questo tipo di giochi non implichi necessariamente né che il nostro autore fosse un parlante una lingua semitica né che abbia scritto il testo in una lingua semitica vero è che da tutti i casi che ho assommato e da alcune stranezze del copto si può confermare che il testo scritto in un greco avrebbe da dire biblico che ricorda ad esempio i libri sapienziali i libri sapienziali del tipo la traduzione greca del siracide o la o la sapienza di salomone questo sì questo sì un greco come si suol dire semitizzante ultimo punto anche perché non so quanto quanto mi è rimasto ancora di tempo le scritture divine leggiamo leggiamo la traduzione basata anche su suorlandi del del famoso tiè poiché non potevano comprendere né conoscere colui nel quale erano fosse stato infatti così la sua volontà non sarebbe uscita da lui egli invece manifestò la sua volontà come conoscenza con la quale erano tutt'uno i di lei tiè la conoscenza del libro vivente che gli svelò ai mondi alla fine le sue lettere lettere di lui manifesto né vocali né consonanti che uno legga e pensi a vuoto ma lettere della verità che parlano e si comprendono da sé ciascuna lettera una verità perfetta lettera helcoptos hai che probabilmente traduce gramma quindi potrebbe essere anche semplicemente segno ciascuna lettera una verità perfetta alla stregua di un libro perfetto lettere scritte dall'uno scritte dal padre per i mondi perché per mezzo loro lo conoscessero quindi vedete questo vi dà un'idea dell'autore con cui abbiamo a che fare è un autore che crea metafore e molte di queste sono sono belle si rincorrono si sovrappongono per questo è un testo che secondo me letterariamente nonostante le difficoltà vale la pena varrebbe la pena di essere di essere letto qui abbiamo il secondo degli APAX che io voglio trattare questo TE il primo non ve l'ho riportato il primo faccio due rapidissime premesse APAX questo che mi appresso a dire riceve un paio di forti limitazioni uno è che molti testi copti sono ancora inediti quindi dobbiamo prendere la nozione di APAX come una nozione comunque relativa secondo che il principale dizionario di copto cioè il cram è datato al 1939 quindi prima dei ritrovamenti di Nag Hammadi prima dei ritrovamenti di Medinetmadi prima dei ritrovamenti di molti Ostraca questo termine TE ad esempio non è riportato dal cram un professore un professore merito di egittologia di Basilea ha creato un sito online coptica si chiama in cui sta cercando di aggiornare il cram il lessico copto al tempo stesso e credo questo possa essere utile anche per chi studia il greco sta producendo un lessico di parole greche che compaiono in copto che ripeto può essere utile per chi studia il greco perché non è detto che corrispondano pienamente a magari il significato che viene dato nel Liddell Scott o in altri o in altri dizionari questo lo trovate tutto online sul sito di questo Pierre Cherie coptica detto questo questo è il secondo apax che voglio affrontare il primo è un apax che in copto suona munec en ho allora normalmente munec en ho viene tradotto con immagine forma titorlandi lo traduce forma del volto perché perché munec è un verbo che può essere un infinito che può essere utilizzato anche come sostantivo che copre normalmente tutta l'area semantica di poieo nel nel suo livello più artigianale quindi fare produrre cose poi può essere ulteriormente specificato a seconda dell'oggetto che viene fatto può tradurre anche il greco ad esempio diaglifo e via dicendo insomma il termine greco può essere anche più specifico spesso il copto lo traduce con questo munec in origine il termine munec in egiziano significa cesellare in particolare viene utilizzato anche per le iscrizioni geroglifiche la cesellatura anche di testi di figure di rappresentazioni ho è letteralmente il volto e traduce oltre che prosopon attenzione morfè eidos e idea quindi vi faccio capire la difficoltà di lavorare con questi testi perché potete notare come un'espressione simile una costruzione simile munec la ha con kij kij significa mano quindi munec en kij è il prodotto della mano che traduce spesso il greco cheiropoietos anche come sostantivo to cheiropoieton ta cheiropoieta ma può tradurre ad esempio anche gluptos è interessante perché nel nostro testo avremo munec en ho del tipo prodotto del volto o prodotto della forma o prodotto dell'aspetto il che potrebbe rimandare sull'esempio di kij cheiropoietos ha un eidopoia oppure è un eidolopoia eidolopoia è il termine già platonico nel timeo questo munec en ho compare nel momento in cui si dice che Gesù appare come maestro interessantissima questa rappresentazione maestro poi si parlerà di un libro intorno a cui si radunano gli allievi e qui mi viene in mente la famosa rappresentazione di ostia con il maestro e al centro il libro e al centro gli allievi appunto Gesù compare nel mezzo dice proprio il testo appare nel mezzo che può essere sia una manifestazione sapienziale la sapienza of the and meso appare apparve nel mezzo sia però ci può essere questo immaginario secondo me anche di di una lezione chiamiamola filosofica dietro e Gesù appare come maestro tranquillo e mite che accoglie nella sua scuola dice il testo prima gli orgogliosi e i sapienti e li manda via perché si sono vuoti e poi i piccoli che si rafforzano e da loro insegna i munec en ho di Dio se noi interpretassimo questo munec en ho come eido poia o eidolo poia avremmo nient'altro un significato del tipo insegna a questi suoi allievi il farsi delle immagini di Dio riprodursi delle immagini di Dio ripeto sono tutti e due testi termini della tradizione platonica entrambi arrivano fino a Giamblico sono attestati anche in Giamblico proprio in questa idea di replica riproduzione di un'immagine riproduzione di un modello quindi stante l'estremo letteralismo del nostro autore questa potrebbe essere una proposta di significato che ad ora ancora non ho trovato nella letteratura quindi Gesù sarebbe fondamentalmente un maestro vorrebbe da dire quasi di ontologia platonica cioè che insegna ai piccoli appunto tutte le diverse stratificazioni della realtà e come dal modello si è arrivati alle diverse forme immagini in cui comunque il padre in cui comunque il padre vive ed è presente ricordatevi il tutto è lui e lui era nel tutto ma il tutto lo ignorava vediamo a Thie Thie anche questo è un apax l'unico prima di di questo testo l'unica occorrenza di Thie era sempre in un testo cristiano l'apocalisse di Elia probabilmente datato agli inizi del terzo secolo testo egiziano terzo secolo chiaramente dopo Cristo dove ricorreva in relazione al sole la Thie del sole però lì probabilmente Thie va corretto in Thie cioè bisognerebbe correggere la Eta in una K chiaramente un Eta in maiuscola biblica di terzo secolo è molto simile a una K di maiuscola biblica di terzo secolo quindi l'errore era immediato perché Thie perché Thie è bagliore quindi come il bagliore del sole quindi eliminiamo eliminiamo questo questo passo perché lì probabilmente è una lezione errata ci ritroviamo quindi senza niente e varie sono state le proposte di significato da dono Thie in in copto significa dare quindi anche dono ciò che viene dato a emanazione al tedesco sprössling oppure Thiel nel 58 propose il termine immagine e fu recuperato questa traduzione anche da Westendorf che nel coptice etimologische sporterbuch dà questo significato appunto immagine e rappresentazione aggiungendo anche l'etimologia egiziana che appunto è Thiet come l'egiziano ha Thiet che diventa in copto Thie con la eta finale così l'egiziano ha Thiet che diventa in copto Thie con l'eta finale la caduta della Thie e la vocalizzazione in eta fanno propendere per questo tipo di etimologia ora che significa Thiet in egiziano Thiet in egiziano significa immagine figura rappresentazione forma può essere usato ad esempio per il sovrano in quanto immagine del dio sole può essere usato però ad esempio anche per i geroglifici i geroglifici sono Thiet cioè sono figure sono forme rappresentazioni nel 2003 Maria Carmela Betrò ha pubblicato un interessantissimo contributo su origine in octava appunto il convegno principale convegno su origine tenutosi nel 2001 proprio qui a Pisa nell'agosto del 2001 cercando di illustrare come alcuni testi greci anche dell'età tardo-antica si capiscano greco-egiziani si capiscano meglio nel momento in cui si inizia a leggere un po' di letteratura egiziana anche tardo-antica uno di questi casi era PGM 8 152 è un testo in cui il mago a un certo punto dice io conosco il tuo nome io so chi sei e inizia a numerare alberi città io sono te tu sei me io sono il tuo Eidolon segnatevi questo io sono il tuo Eidolon l'abitro dimostra come questo testo abbia anche paralleli nei papiri magici demotici e come questo tipo di formulazioni derivi da testi solari associati alla regalità per cui attraverso l'acquisizione di queste conoscenze il re possa definirsi kit di ra e quindi il re è il kit di ra con questo parallelo potremmo pensare che un corrispondente greco di tit sia proprio Eidolon vorrei che vedeste anche questo articolo questa idea non è nuova in cui appunto questa studiosa parigina l'articolo ha già qualche anno quasi 30 anni ormai in cui proponeva appunto questo tipo di parallelo è interessante perché ad esempio in alcune iscrizioni bilingui l'egiziano titi viene tradotto in greco anche con episema a indicare quindi anche il segno e adesso vi invito a rileggere il passo con questo che abbiamo appena detto e vedete come le cose inizino un pochino a chiarirsi perché vedete che innanzitutto stiamo parlando di un libro vivente e probabilmente dei caratteri con cui la verità scrive questo libro vivente che sono immagini segni figure forme non sono né vocali né consonanti il testo copto parla di topoi con suono e senza suono e qui sarebbe interessante vedere io non l'ho ancora fatta questa ricerca se topos possa effettivamente indicare un segno grammaticale alcuni correggono topos in tupos vi faccio vi faccio presente correggono tupos in questo passo ora quali sono segni che tradizionalmente per quel periodo non hanno né vocali né consonanti ma rappresentano vedete che uno legge e pensa a vuoto ma lettere della verità che parlano e si comprendono da sé punto interrogativo voglio leggervi due passi e vediamo se avete la mia stessa impressione corpus ermetico 16 in greco questo è importante da dire 16 2 il discorso esposto invece nella lingua dei padri rende chiaro il senso delle parole e infatti la qualità stessa del suono e il tono dei nomi egiziani hanno in sé l'energia delle cose che esprimono per quanto dunque ti è possibile o re ma tutto ti è possibile vigila che tale discorso non venga tradotto in greco sottinteso vi ripeto ecco uno che sta scrivendo in greco perché tali misteri un egiziano che scrive in greco perché tali misteri non giungano ai greci nei loro eloquio tracotante fiacco e per così dire imbellettato non sbiadisca la sacra nobiltà il vigore e lo stile dell'efficacia energica dei nomi egiziani i greci infatti o re hanno discorsi vuoti cosa si dice prima le vocali e le consonanti se uno le legge fanno pensare a vuoto in copto può essere fanno pensare vanamente o anche fanno pensare a qualcosa di vuoto di vacuo efficaci nel produrre dimostrazioni e questa è la filosofia dei greci un frastuono di parole noi invece non usiamo parole ma suoni pieni di azione primo testo vedete che c'è lo stesso confronto tra la lingua dei greci suoni frastuono parole a vuoto e un'altra lingua potente perfetta in se stessa che racchiude possiamo dire con il linguaggio del Vangelo della Verità verità e pensieri compiuti in se stessi come un libro perfetto secondo passo che vi voglio leggere il già citato Plotino Enea di 5 8 6 scrive Plotino a mio giudizio anche i saggi d'Egitto giunsero a queste conclusioni o per via di una scienza precisa o per via intuitiva infatti quando volevano dare dimostrazioni sulla base della sapienza non si servivano dell'incisione di lettere che tengono dietro alle parole e alle proposizioni e che imitano certe voci e la pronuncia di frasi ma disegnavano figure a galmata e scolpivano nei templi una singola figura per ciascun oggetto per dimostrare che lassù il pensiero non ha bisogno di procedimenti notate che anche questo nostro testo sta probabilmente pensando parlando delle componenti della realtà intellegibile sia in quanto esseri angelici barra eoni sia in quanto appunto esseri angelici barra eoni decaduti e che ritrovano la conoscenza cioè esseri umani fondamentalmente il pensiero non ha bisogno di procedimenti dato che ogni singola figura è scienza e sapienza e anche il contenuto che sottende in tal senso è qualcosa di unitario notate anche che qui si parla di spesso di unità nel nostro testo e non una conoscenza discorsiva è un atto di volontà in un secondo tempo però da questa forma di conoscenza così concisa l'immagine attenzione quindi sembra essere utilizzato in parallelo con agelma ma qui il plotino cambia eidolon si sviluppò in altri e si esplicò in procedimenti mettendo in luce i motivi per cui le cose sono come sono un ultimo appunto su questo eidolon se andate a leggere i geroglifici di Orapollo siamo un testo di quinto secolo quando lui parla su come gli egiziani rappresentino ad esempio il monogenes oppure la terra il cosmo lui parla a un certo punto dello scarabeo e definisce lo scarabeo quello appunto con cui poteva essere nei geroglifici tardi effettivamente lo scarabeo viene utilizzato per scrivere terra quindi in questo senso ha ragione lui mette cosmos però siamo là punto il il geroglifico dello scarabeo che rappresenta questo mondo quindi rappresenta la ciclicità del tempo ma rappresenta del suo rinnovarsi rappresenta anche il ciclo solare il sole la terra e l'autogene l'autogenerato per gli egiziani il sole si autogenera si autofeconda viene definito eidolon eliu quindi diciamo il cerchio si chiude su questa su quest'area semantica che abbiamo visto di eidolon barra segno geroglifico arrivando alle conclusioni perché non penso che abbiamo molto tempo ancora come vedete questo è un testo denso effettivamente le mie sono solo ipotesi più o meno circostanziate però se cerchiamo di non appiattire il testo alla sua semplice dimensione del codice 1 o codice 2 che abbiamo in aggammati e li studiamo solo come come fondo possiamo riuscire anche ad inserire questo testo da un lato in un ambiente cristiano dove si parla il greco in cui si scrivono testi greci pieni di esegesi biblica di passi evangelici di esortazioni a un certo punto il nostro autore parla anche forse di una sua esperienza statica e si scrive in un greco che cerca di ricalcare le movenze del greco biblico del greco sapienziale dei testi sapienziali un testo che spesso si incentra parla di questo mito non della sapienza ma della plane che anche nei testi sapienziali chiaramente o della mataiotes che chiaramente è l'opposto della sofia chi non è sofos è mataios o è planos sia in senso attivo che in senso passivo cioè sia ingannato che che ingannatore dall'altro lato vediamo come a un certo punto quando viene tradotto quando viene tradotto in copto viene rinserito in un ambiente ripeto in cui il testo viene tradotto in maniera ferocemente anche brutalmente letterale mi verrebbe da dire e però questa letteralità letteralità letteralismo non impedisce al nostro traduttore di regalarci dall'auto una chicca che riporta anche in copto un gioco di parole dall'altro permette comunque di far arrivare anche al copto attraverso la scelta di queste parole in particolare ti è quella probabile contrapposizione tra scritture non alfabetiche quindi forse si sta parlando di egiziano di geroglifici e appunto greco barra scritture alfabetiche che come vediamo sia da plotino che da che dai testi ermetici era ben presente nell'immaginario di autori egiziani a prescindere che essi poi di fatto leggessero i geroglifici fatto sta che in parte queste notazioni queste notazioni corrispondono a quello che gli egiziani stessi pensavano o facevano con i geroglifici in età tarda in età greco-romana spero che ripeto questo contributo possa invogliare a continuare a studiare questo testo a livello diacronico perché secondo me soprattutto quando si arriva si arriva alla datazione ancora cose 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 interessanti da dire grazie grazie mille per questa lezione veramente bellissima anche per non esperti credo che ci saranno domande rompo il ghiaccio rompo il ghiaccio l'asino beh la prima cosa quella che mi ha fatto pensare quando tu insisti sulla esigenza di traduzione letterale che dimostri molto bene è così perché è testo sacro che lui cerca di non discostarsi minimamente da quella originale che ha davanti cioè questo bisogno di letterarietà di non spostarsi per niente a costo domanda due che però è accanto alla prima molte volte questo lo dimostri bene mi sembra che ci sono dei casi in cui certe diciamo irregolarità si spiegherebbero bene col fatto che chi trascrive ha in mente il genere per esempio dell'originale greco così ci sono casi analoghi in cui si potrebbe fare lo stesso col siriaco no perché è una cosa che mi piace molto questo metodo quando te hai cominciato a parlare io mi sono ricordata ad un testo mio latino che per molto tempo la gente ha considerato modello di un testo greco finché un notissimo dotto non ha dimostrato che invece questo testo latino aveva degli errori presi da un testo greco da una scrittura greca quindi non c'era verso bisognava rigirare la discendenza qui in questo caso succede allora la prima domanda praticamente tocca tutta tutta la trasmissione di questo testo perché hai fatto una domanda che da questo punto di vista coinvolge tutto nel senso coinvolge altre domande del tipo chi ha trasmesso inizialmente questo testo chi lo ha continuato a diffondere chi ha voluto che fosse tradotto in copto chi lo ha tradotto in copto chi ha continuato a copiarlo in copto cioè quindi vedete quella semplicissima domanda coinvolge coinvolge molte cose quello che posso dire rapidamente è che si discute questo è forse l'unico testo copto che può sollevare pretese di essere stato scritto da Valentino Valentino è appunto noi sappiamo che arrivò a Roma intorno al 138 140 dopo Cristo e rimase circa una ventina d'anni fu un famosissimo maestro di cui purtroppo ci sono rimasti solo dei frammenti citati da da Clemente Alessandrino e dal dallo pseudo eppolito nella refutazio di tutte le eresie scritta a Roma scritta a Roma nel primo venticinquennio del intorno agli anni venti insomma del terzo secolo e lui scrisse da quello che vediamo scrisse lettere e scrisse anche delle omiliai così ci dice così ci dice così ci dice Clemente la scuola tedesca è allineata al negargli la paternità di questo testo la scuola americana e in genere anglosassone intendendo per anglosassone britannico americana fondamentalmente tende ad attribuirglielo con diverse sfumature di possibilità ma tende ad attribuirglielo io in un recente contributo ho provato ho provato a dimostrare che un autore un discepolo di Valentino Marco che il cui movimento si diffuse dall'Asia minore fino alla valle del Rodano Lione e poi Roma è appunto ben conosciuto da Ireneo che probabilmente nell'opera che Ireneo cita da Ampistralci o Parafra sa questa sia che lui ha avuto fra le mani e lo dimostra in alcuni passi potrebbe dipendere dal Vangelo di Verità potrebbe conoscere il Vangelo di Verità e questo nella mia ottica ripeto che siamo sempre sul potrebbe potrebbe essere una prova a favore della paternità di Valentino il che significa se era di Valentino che che questo probabilmente veniva come noi sappiamo veniva fatto anche di Odi di Valentino Valentino compose anche delle Odai una citata una citata anche dallo Pseudo Ippolito vedo nello spirito tutto il mondo appeso insomma è un testo molto interessante molto interessante da leggere in metrica tra l'altro quindi era una persona estremamente colta egiziano probabilmente di origine i discepoli scriveva in greco i discepoli si dilettavano di interpretazioni anche allegoriche di questa Odè del maestro e probabilmente quella che viene riferita dallo Pseudo Ippolito come interpretazione dell'Odè non è un'interpretazione di Valentino stesso ma è un'interpretazione posteriore noi lo sappiamo se non ricordo male anche da Tertulliano che altri Valentiniani scrivevano Odai e interpretavano le Odai del maestro quindi se non canonico sicuramente se è di Valentino potrebbe aver avuto in certi gruppi un certo livello di autorità è chiaro che col passare del tempo forse questa questa idea si è molto diluita e forse quando si arriva alla traduzione copta non saprei dirti se lo vedessero come un testo autoritario io ho l'impressione che spesse volte questo nostro traduttore si memorizzasse delle sezioni di testo che magari tenevano escluse il relativo greco le traduceva e poi al momento di riprendere si ritrovava il relativo e non faceva 2 più 2 che è un meccanismo che spiega spesso anche molti errori anche meccanici non solo di traduzione ma anche di copiatura la mia idea fondamentalmente è questa proprio perché ripeto al tempo della della produzione della traduzione copta probabilmente questa questa aura di non voglio dire di sacralità ma di autorità forse si era ben diluita insieme ai gruppi di Valentiniani i Valentiniani sono attestati fino abbondantemente in età bizantina la presenza di Valentiniani però diventa diventa età bizantina significa comunque se non ricordo male sesto o settimo secolo è l'ultima l'ultima notizia sui Valentiniani ma vediamo cioè noi sappiamo appunto che origine convertì tra virgolette la fede cattolica un Valentiniano ambrogio che poi gli mise a disposizione ricchissimo calligrafi calligrafe copisti vari e da lì noi abbiamo tutta tutta la produzione cioè quello che ci è arrivato della produzione di origine è partito tutto da da lì nelle nuove omelie origine parla di questo momento in cui non c'erano maestri e queste scuole eretiche si giocavano il successo poi insomma sembra dire sono arrivato io e ho sistemato tutte le cose nelle nuove omelie però vabbè in ogni caso questo è il punto sulla la seconda domanda la seconda domanda è interessante andrebbe verificato però ad esempio anche sia il siriaco che il copto hanno un relativo invariabile voglio dire questo Nigel scusami che sostiene Nigel che sostiene la discendenza dal siriaco con che argomenti non usa argomenti di questo tipo no 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 sì 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 lui lui dal 66 in poi ha preso una serie di passi che a suo dire si capiscono meglio ad esempio faccio un esempio rapidissimo a un certo punto il testo parla di ascoltare la propria radice ora secondo Nigel dietro questa immagine c'è un gioco di parole per metatesi tra cra chiamare leggere e radice ecco questo questo è il questo è vedete che si iniziano già ad esempio io questo mi sono ricordato questo ad esempio è uno sul ma ripeto Nigel è stato confutato da una voce assolutamente assolutamente isolata ripeto diciamo Grazie a tutti